Ciao ragazzi, sono Regalbo, sono ritorno sul canale. Finalmente gioco a RISESTONE 2. Ho una voglia matta di giocarci e finalmente ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Sto giocando come vietnamita in questo momento. Partite sono abbastanza lunghe a quanto pare, ma il gioco è fantastico, non mi aspettavo fosse così. Mi sta piacendo molto, controllo per come si muove il soldato, come andiamo, il modo in cui spariamo. Dobbiamo cambiare modalità di fuoco ai vari fucili. E' ancora in beta, questa qua è l'ondata di beta numero 7, penso. Quindi, sì, magari qualcosa ancora non funziona perfettamente. Sto sperimentando un po' di lag grafico, cioè ogni tanto si blocca il gioco, va a scatti. Non penso sia il mio PC, però potrei sbagliarmi. Dov'è ancora guardare le opzioni, quelle cose lì. Il gioco ce l'ho in inglese, perché ho anche registrato un altro video per il mio canale in inglese, ma vabbè, questo è un altro discorso. Ve lo amare, è abbastanza intuitivo, comunque vi aiuterò nelle traduzioni nel caso serva. Guarda, dove siamo adesso? Stiamo difendendo il lato destro di B. A quanto pare stanno... gli americani stanno muovendosi noi... ...in giro lungo. Ehm, proviamo ad andare verso di qua. Vale, cerchiamo di... Ma qua non si va da nessuna parte, penso. Andiamo a vedere... Di qua? No, penso che è tutta una fila di case, che non si può fare nulla, penso. Map fatto da Dio, graficamente mi piace molto il gioco, devo dire. Cerchiamo di fare qualche kill. Sto giocando bene, pur essendo la mia prima partita. Abbiamo un cerchino, penso... Dove è cazzo? Proviamo a scamparcela. Mamma mia. Ah, porca Eva. Mi neanche visti dove fossero... Sì. Avevamo preso... Avevamo A e B, hanno preso A tipo... Minuti fa. Ora stiamo difendendo ancora B. Non so se abbiamo il lockdown, non ce l'abbiamo ancora. Mi sta piacendo un po' qui questo gioco. Non vedevo l'ora di giocarselo, tipo... Aspettando da anni. Se abbiamo A come di canno, in fondo... Al vico, no? Il problema è che non li vedo. Se il volume è troppo alto, mi scuso, ma... Devo ancora... È la prima volta che gioco, quindi... Non ho provato a testare il volume. Forse avuto fallo. Vabbè, dettagli. Dettagli. Se facciamo il cinturino, Ria mettiamo la baionetta. Uhuhuhu, tanta roba. Ok. Penso che stiamo chiamando, tipo... Della tiria in testa, quindi ci spostiamo. O rimaniamo all'interno, forse è ancora meglio da fare. Napalm? Qua è Napalm, secondo me. Qui ti ha se facassi, no? Abbiamo perduto il cavolo! Ma fra tutti quanti me devi beccare? Eccoci qua, ho provato a chiamare classe ma sono tutte piene C'è solo l'umoradio che è la prima partita della mia vita su Rising Stone 2 Non mi va di farlo perché si chiamano TG eccetera eccetera Non mi sento questa responsabilità in questo momento Continuiamo a sperare normalmente a uccidere che è meglio Ok, speriamo di qualche po' più di azione Mi piace molto gli effetti sonori delle armi eccetera Mi sta piacendo moltissimo devo dire Non me l'aspettavo, sono sincero Non me l'aspettavo così Ok, il punto C è qui al ponte Non so perché, vedete Questo qua ogni tanto si blocca la grafica Per motivi che devo sgamare Eh, secondo me stanno facendo i cecchini Oh, ecco il no Stanno cecchinando eh, infamore Allora vediamo se riusciamo a sgamarli Ma stare qua così non... Non mi piace l'idea Dove si va qua sotto? Non conosco la mappa quindi... Stanno andando anche un po' a casaccio nel momento Ok, penso che sia l'americano che c'è l'amita anche lui Non so se stiamo in cielo, trovo in cinghia Che cosa sta succedendo, ok Ok, mettiamo una baionetta qui Non so se ne so mai Siamo sasci? Siamo in cinghia? Siamo in cinghia? Ok Ok, amico, lì, quindi la zona dovrebbe essere libera, chiaramente Lo stai attenti al tetto là sopra perché potrebbero posizionarsi lì Ok, mi raccomando, va bene Ok, sto provando ad avanzare un po' Ah, l'ho vista a sinistra prima Ok, sto giocando da cazzo Prima nell'altro video sto facendo ore 17 kg ma nell'altro video era una macchina da guerra E poi invece sono... Sono diventato uno scoiattolo da guerra, cioè è inutile essere Devo sparare, ok, posto Ok, colpo singolo Vediamo dove sono, non lo capisco Un po' ovunque in realtà, però Quello dove era? Ah no, tutto nemmeno, ok Vedete qualcuno? Sì, ok, ne vedo qualcuno Qualcuno scappato, menzione Penso l'abbiamo atterrato Penso l'abbiamo atterrato Vediamo, vediamo, vediamo Vediamo, vediamo Uh, c'è uno, c'è uno, l'ho visto Vieni fuori, vieni fuori Che cazzo sta arrivando? L'ho preso? Forse sì No Ma che mitra Ah, l'aereo L'elicottero, cos'è? Non lo so, ci sta massacrando tutti Sì, comunque sono gli elicotteri, non sapete? Cioè, l'elicottero può essere, viene guidato da un giocatore Il mitragliere da un altro giocatore E il tiro si possa trasportare anche le truppe intorno per la mappa Dipende anche dalle mappe Tanta roba, sì, tanta roba Dove cazzo? Ah no, ah no, è un aereo questo Comunque sì, sono anche gli elicotteri, però questo qua è tipo Qualcosa che chiamano come abilità, diciamo, i vari... I capi squadra, quella gentaglia lì Eh, quel cosa è devastante, cioè, diciamo, ammazzano i 10.000 Eh, quel cosa è devastante, cioè, ammazzano i 10.000 Oh, andiamo a Charlie, veloci, dai Ok, mica sto ricordo, sto aerobus sta distruggendo E' lag, assurdo Guardando a cazzo, non volevo buttarmi qui, ma ora non abbiamo scelta... Altra scelta Vediamo se riusciamo a scamparcela Eh, al riparo almeno Dai, 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 ok, bene Siamo qui che possiamo colpirli dal fianco Non scherzavo, non possiamo fare nulla Però ci non... Charlie... Ok, lo stavo riprendendo adesso Proviamo a muoci questo scatto qua, dovevo fixarlo assolutamente, prima o poi Non ho capito che cosa è Magari il gioco ancora deve essere rilasciato, questo qua è ancora beta Che cazzo è? Dov'è? Porca Eva Porca Eva Ah, dovevo usare la band Ma vai a fare... Dov'è minchia stava questo? Proviamo le spalle subito, fortunatamente Allora... Allora... È lagga, è cristo Non sento nulla Sto vlando in camera mia La rispetta Non sento nulla No 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 Ok Allora Situazione quale è una Stiamo ancora... Fatto qua i nemici sono su questo lato qua Lanciamo qualche granata, se è possibile Lo sto usando poco, sentete le due d'actature sfammavo? Chon Lee è stato attaccato! Chon Lee è stato attaccato! Chon Lee è stato attaccato! Era proprio lì, mamma mia! No, cazzo! Mamma mia, mamma mia! Sono ancora qui, sono qui, mi stanno circondando! Non sanno che sono qui però! Mamma mia! Ma sto scappando veramente! Vabbè, mi ha sparato una grata in bocca! No! 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 No!